Uno skate park, parco attrezzato con piste, rampi per skateboard e patinaggio a Pescara del costo di 150.000 euro. Questo è il progetto presentato questa mattina nella sede della Regione dal Presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso, affiancato dal Sindaco del Capoluogo Adriatico, Marco Alessandrini. Abbiamo una richiesta decennale, ha detto il Presidente D'Alfonso, che vogliamo accontentare riguardo i giovani che usano lo skate. Quest'opera la considero una infrastruttura e non è un caso che la presentiamo prima del 2 giugno, perché i ragazzi usano spesso le piazze, simbolo della storia del paese, per i loro hobby. E così oggi presentiamo quest'opera che crediamo di poter concludere, dopo la gara di appalto e l'affidamento dei lavori, fra i 90 e i 120 giorni. Un'opera che produce simpatia. La stazione appaltante sarà il comune di Pescara e mi auguro anche che le operazioni di appalto siano veloci, anche perché l'area è già stata individuata. L'infrastruttura troverà sito in uno spazio della Camera di Commercio, nei pressi del porto turistico e siamo convinti di poter aiutare il comune a rispondere a questa esigenza di tanti giovani. Il Sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha spiegato è un bisogno dei giovani, anche perché vogliamo liberare delle piazze che portano i segni della nostra storia, come per esempio Piazza Garibaldi, da questi ragazzi che si divertono con lo skate. L'idea era di trovare un luogo che potesse facilitare la convocazione del popolo dei rotellisti che abbiamo individuato nella zona del porto turistico.